Un altro dei modi con cui Microsoft Viva sta già adesso aiutando le aziende a salvare tempo e denaro riguarda la possibilità di tenere le persone in azienda. Microsoft ha visto che le aziende che stanno utilizzando Viva già nel primo anno hanno riscontrato un 10% in meno di attriti con i propri lavoratori e pensato sui tre anni questo 10% arriva addirittura a un 20%. E come fa Viva ad aiutare le aziende a tenersi le persone? Molto semplice. Viva Learning per la formazione. Punto numero 2. Viva Topic. Perdo meno tempo a cercare le cose di cui ho bisogno. Punto numero 3. Viva Insights. Posso bilanciare la mia produttività con la mia vita privata. Punto numero 4. Sta arrivando Viva Glint per mettere in azienda la cultura di un continuo feedback tra il lavoratore e l'azienda stessa.